Allora ragazzi questo motopesco qua sta dentro, facciamo un riscontro con i dispositivi di satellitari a bordo, si avanti, fermate le macchine, fermate le macchine, avanti compamare Allora la rete mettiamola a bordo da noi Gliel'abbiamo sequestrata, la mettiamo a bordo da noi, ce la portiamo in tazza Gli occhi aperti vediamo se c'è qualche rete, qualcosa in acqua, qualsiasi segnale Qua siamo al centro della secca